I piccoli amici di Jacqueline sono tutti un po' emozionati. È giornata di visite e per loro c'è una visita eccezionale, una visita da giorno di gran festa. La Fest Lady porta personalmente il suo regalo ai bambini ricoverati nell'ospedale del distretto di Columbia. Come la più affettuosa e la più sollecita delle mamme, si ferma davanti ad ogni lettino e i piccoli pazienti ricevono da lei un albero di Natale racchiuso in una sfera di vetro. I bambini familiarizzano subito con la moglie del presidente e le trovano anche un soprannome affettuoso e originale. La chiamano la signora Santa Claus. Più tardi alla Casa Bianca Jacqueline posa accanto al presidente per le rituali foto di Natale. L'albero è stato preparato nella camera blu ed è alto 19 piedi. Gli americani tengono molto a queste fotografie che colgono la Fest Family nell'atteggiamento di ogni buona famiglia borghese degli Stati Uniti. Il sorriso bonario di Kennedy e la grazia di Jacqueline si intonano perfettamente con l'atmosfera natalizia.